La mini rivoluzione in casa rossa azzurra è già in atto. E' arrivato anche il direttore sportivo Daniele Dellicarri dopo il nuovo allenatore Dario Marcolin. Adesso bisognerà pensare a potenziare la squadra in vista di un girone di ritorno che dovrà consentire alla formazione rossa azzurra di risalire la china vista l'attuale posizione in graduatoria. Tante le trattative che potrebbero sbocciare da un momento all'altro sia in entrata che in uscita. Una delle trattative riguarda quella intavolata con il Bologna per lo scambio tra Spolli che finirebbe in terra Felsina e la coppia Pazienza-Troianello che arriverebbe a Catania. L'attaccante è seguito però anche dalla Frosinone e bisognerà quindi riuscire a vincere la concorrenza. Si guarda con attenzione anche al rafforzamento del reparto difensivo seguiti da vicinissimo il difensore Belmonte dell'Udinese e di Cesare della Brescia. Per quest'ultimo la trattativa è sempre più facile mentre su Belmonte Stramaccioni pare abbia messo un veto. Malgrado il calciatore fino a questo momento sia stato poco utilizzato dai friulani. Cessione in vista anche per Almironne mentre Sebastiano Leto potrebbe finire alla Ranzing a Vellaneto o alla Panatinae che sta tornando così in Grecia. Per l'attacco il nome caldo è quello di Ardemagni già qualche anno fa accostato alla Catania. Marcolin lo conosce bene dai tempi del Modena e considerato che l'attaccante sta giocando pochissimo con lo Spezia potrebbe presto vestire la casacca rossa-azzurra. Intanto Marcolin sta torchiando la squadra. In questi giorni svolte specifiche esercitazioni tattiche a tutto campo e lavoro atletico. Oggi previste due sedute mentre giovedì e venerdì il Catania si allenerà di pomeriggio. Poi una breve pausa di riposo sabato e domenica. Quindi la preparazione riprenderà nei primi giorni della prossima settimana con due doppie sedute consecutive.